ciao valeria benvenuto a campo volo reggio emilia sei carichissima vedo ottimo molto bene wow quando li hai fatti il 14 quindi un regalo anticipato va bene perfetto allora faremo in modo di fare un bel video per il regalo di compleanno tu pensa a divertirti io sarò davanti te come diceva laura per tutto il tempo della caduta libera video foto cerca di guardarmi più che puoi puoi fare quello che vuoi io seguo test e tu urlo anch'io va bene va bene allora manca pochissimo quindi se è tutto chiaro quello che andiamo a fare mi raccomando sei dubbi chiedi io ti saluto e ci vediamo tra pochissimo nero che nemmo divertirsi insieme si vede in aria esatto ciao ok ci siamo valeria davanti a lui così ok 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!